E quindi chiamerei Eliana Garofalo e Antonino Luciano Scuderi della Direzione Generale Creatività Contemporanea e Alessandra Ferrighi responsabile di ricerca della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. Intanto voi, ma forse chiamerei anche gli altri, così facciamo prima. Mi sposto. Quindi Renato Piccirillo di Hermes Multimedia e per tutto il gruppo che ci riferisce sulla normalizzazione e l'aggiornamento del censimento, Giulia Menzietti dell'Università di Camerino. Spero di non aver sbagliato gli interlocutori, ma mi pare di no. Quindi intanto venite che io mi sposto e lascio immediatamente la parola a Eliana Garofalo e Antonino Scuderi e Alessandra Ferrighi. Vi organizzate voi. Perfetto. Buongiorno a tutti. Quindi, velocissimamente vado un po' a spiegare l'inizio della ricerca, le motivazioni per cui siamo arrivati a tutte le discussioni, a tutti i racconti che sono stati fatti finora. In realtà la direzione generale ha iniziato questo lavoro già nell'ottunno del 2019 a fronte di una serie di criticità abbastanza evidenti che venivano appunto da 20 anni di lavoro sul censimento, 15 anni di messa online della piattaforma del censimento e a fronte anche ormai nel 2019 contavamo già 4256 schede. Allora, il primo problema riguardava ovviamente l'invecchiamento della piattaforma informatica, dell'infrastruttura informatica, negli suoi apparati appunto di supporto informatico, ma anche appesantita proprio dalla presenza di così tante schede. La seconda problematica invece riguardava una mancanza di comunicazione, di scambio, di connessione con la nuova piattaforma che avevamo pubblicato online nell'aprile del 2019, ossia l'Atlante dell'architettura contemporanea. Atlante dell'architettura contemporanea che è stato già nominato, richiamato, per noi è un progetto molto importante di valorizzazione, forse una delle prime sperimentazioni sulla valorizzazione del censimento, fatto proprio sulla base di una selezione di opere prese dal censimento, accompagnate però da materiali fotografici inediti e originali, quindi la costruzione di una serie di percorsi tematici che un po' volevano ricostruire per grandi aree un po' la storia della nazione negli ultimi settant'anni. A questo si aggiungeva un ultimo problema, che era un problema invece di una volontà forse anche della direzione generale, a fronte di questo lavoro così consistente, di alta qualità, che era appunto la schedatura delle opere presenti nel censimento, di un attimo sistemare meglio, rendere più efficiente, più agile la consultazione di queste schede, ma anche di aprire fondamente il censimento a un pubblico più ampio, a un pubblico più esteso, non solo mirato ai nostri colleghi funzionari delle sovrintendenze, fini della 633, ma anche appunto ai ricercatori, specialisti, anche appunto come è stato ricordato agli enti territoriali, agli uffici tecnici urbanistici delle regioni, dei comuni che molto spesso ci contattano per avere una serie di indicazioni. A fronte di tutto questo in realtà abbiamo lavorato su due livelli, il primo è stato di indire una gara per affidamento di servizi, per il restain, redesign e rifunzionalizzazione del sito del censimento, interoperabilità con l'Atlante. Il contratto, quella ditta, è stato firmato nell'8 marzo 2020, un giorno prima della chiusura dell'Italia, e contemporaneamente abbiamo iniziato invece un colloquio sempre più stretto con la fondazione, che si è formalizzato poi una convenzione firmata nel giugno 2020, e finalizzato appunto questo progetto di ricerca, di cui oggi appunto stiamo presentando agli esidi, su cui non ritorno perché è stato ampiamente già raccontato, le tre fasi di ricerca, l'unica cosa che mi piace sottolineare è che per noi è anche un'occasione felice, importante di un racconto finalmente pubblico, in uno spazio pubblico, delle opere del censimento, delle architetture presenti nel censimento, che è una cosa per noi molto importante. Invece per quanto riguarda la parte che principalmente è stata quella più lunga, quella che riguarda appunto la ricerca suddivisa in due filoni, da un lato una ricontestualizzazione, una restituzione del contesto conoscitivo, quindi la revisione delle schede, e dall'altro lato invece una parte più di studio relativa appunto alle procedure, alla normativa di riferimento, per quanto riguarda proprio la prima parte, quindi quella sulle schede, che era la parte insomma più sensibile, più delicata del lavoro da fare, perché si trattava di intervenire su dei testi già scritti, abbiamo pubblicato un avviso pubblico nel settembre del 2020, per la selezione quindi di sei borsisti, di sei ricercatori specialisti nelle materie appunto afferente alla storia dell'architettura. A luglio dello stesso anno abbiamo pubblicato la graduatoria grazie all'aiuto della commissione preseduta dal professor Irace, dalla commissione c'era anche la professoressa Conforti, l'architetto Castelli, Cariughi e Aleardi. Abbiamo quindi individuato i sei ricercatori di cui poi a breve Giulia racconterà, e abbiamo iniziato quindi nel settembre del 2021 l'attività appunto di normalizzazione e aggiornamento. Allora per quanto riguarda l'attività di normalizzazione, in realtà è stata un'attività principalmente di tipo compilativo o meglio di revisione dell'editing delle schede, quindi delle operazioni a contorno senza toccare né la struttura della scheda e né tantomeno i contenuti già scritti. Quindi sono state fatte una serie di operazioni più che altro per rendere un indice degli autori certamente più agile, più efficiente, ma anche meglio costruito, quindi sono stati regolarizzati tutti rispetto a una compilazione, anche a delle norme redazionali più stringenti, l'ordine tra nome, cognome, in modo da costruire appunto un indice degli autori, revisionati anche i ruoli dei singoli autori nelle singole costruzioni, nelle singole progettazioni, con le distinzioni, quindi progettista principale, esecutivo e via dicendo, sempre funzionale ad avere un indice di autori, riviste le cronologie di cui parlava appunto la dottoressa Clarelli, perché anche lì c'è una confusione tra inizio del progetto, inizio del canziere, consegna dei lavori, che non permettono quindi una consultazione semplice, è stato fatto un lavoro anche molto stringente rispetto agli elenchi delle tipologie, che nel tempo erano diventate quasi 5.000, le tipologie che in realtà sono le funzioni edilizie, e abbiamo portato a 53, ma appunto come diceva la dottoressa Clarelli, stiamo ancora pensando di ridurle ulteriormente, perché c'erano una serie di ripetizioni, esempio scuola primaria di primo grado e scuola elementare, ristorante ed edifici della ristorazione, quindi erano tutti elementi che complicavano notevolmente lo scorrimento della ricerca. È stata fatta una revisione appunto anche riguardo alle opere appunto dichiarate eccellenze rispetto ai parametri della 633, anche perché nel settembre del 2021 la direzione generale con il comitato tecnico scientifico ha redatto una revisione della circolare iniziale, su cui era stato costruito il censimento, e in più è invece stato poi fatto il vero e proprio lavoro di ricerca, riguardo quindi a un ampliamento sia degli apparati sitografici, ma anche delle connessioni con gli archivi là dove esistevano, così come principalmente l'aggiornamento bibliografico, specie delle schede meno recenti, cioè le prime, che quindi erano rimaste indietro nel tempo. Questo lavoro è stato fatto appunto da questi sei ragazzi, giovanissimi ricercatori, sempre in contatto con noi, ma anche in contatto sempre con i responsabili scientifici dei censimenti che hanno seguito e che si sono confrontati continuamente con questi ragazzi. Lo scorso maggio è stato consegnato il lavoro ed è iniziato poi realmente invece la fase di verifica e di test da parte nostra, sempre gentilmente, cortesemente dai responsabili scientifici del del censimento, fase che è tutt'ora in corso, come appunto diceva la dottoressa Clarelli, che ha bisogno ancora di una serie di sistemazioni, perché appunto negli ultimi mesi abbiamo inserito i decreti del codice urbani che ci stanno gentilmente fornendo continuamente le nostre sovrintendenze, gli uffici periferici del Ministero. Avremmo anche l'intenzione di fare una ricognizione rispetto invece alle indicazioni degli strumenti di piano, che è un altro elemento che manca. Nella speranza comunque, alla fine anche di queste due giornate, degli esiti che arriveranno dalle considerazioni suggerimenti di poter mettere online, di pubblicare finalmente la nuova piattaforma, speriamo entro insomma il duemila e ventidue. Grazie, passo la parola ad Alessandra Ferrighi per la parte che riguarda la normativa. Grazie Aliana. Davvero soltanto due parole perché siamo molto in ritardo. Aggiungo soltanto un piccolo tassello alla descrizione che è stata fatta sinora da chi mi ha preceduto. Il progetto di ricerca è un progetto complesso, come avrete capito, che si è svolto in diverse fasi. Noi abbiamo concluso la prima fase che è la fase della ricerca, adesso siamo nella fase seconda della disseminazione, l'azione 2 e ci sarà un'importante fase finale che comincerà diciamo alla chiusura di queste due giornate che riguarda proprio la formazione. La formazione che stiamo progettando e costruendo, che verrà appunto progettata e costruita dalla collega Martina De Luca insieme ad altri specialisti e queste due giornate offriranno sicuramente degli spunti per andare ad affondare anche quelle che sono le tematiche più importanti, più stringenti e più contemporanee rispetto ai problemi che abbiamo visto sinora descritti. Aggiungo soltanto un piccolissimo focus che riguarda la ricerca che ha condotto la fondazione ovviamente sempre in accordo, in sintonia con la direzione generale che riguarda il tema relativo alle procedure e alle norme, quindi a quegli affondi che verranno descritti domani, quindi non voglio anticipare molto ma vi posso dire appunto che sono state realizzate due ricerche in parallelo, una sulle procedure 633, quindi sull'analisi di quelle che sono tutte le procedure relative ai decreti che sono stati realizzati dal 41 in poi per alcune delle opere ma non voglio dirvi né quante sono, domani lo vedremo e anche una e quindi un particolare affondo sul diritto d'autore, sul diritto appunto di carattere privato e poi anche il diritto pubblicistico che sono stati realizzati dalle dottoresse, da due ricercatrici Giulia Dore e Maria Clara Ghia, una dell'Università di Trento e l'altra dell'Università La Sapienza. Questi sono stati due temi che ci hanno arricchito e hanno anche affiancato il lavoro del censimento perché parallelamente sono riusciti a contribuire a dare quelle informazioni necessarie per esempio per andare a colmare quelle lacune e per far emergere quelle criticità che strada facendo come Eliana appena detto sono andate risolte poi dalla conclusione diciamo delle loro ricerche da maggio fino ad arrivare ad oggi. Io non vorrei rubare altro tempo perché siamo già oltre, so che la professoressa Conforti ha i tempi molto stringati, quindi passo la parola a Luciano Scuderi, vi ringrazio. Benissimo, io sarò pure velocissimo a propito di questa occasione del ritardo per essere il più veloce possibile e vi parlerò di una, diciamo di quello che è l'antesignano di questa idea di lavorare al rieditare la piattaforma ormai un po' obsoleta, diciamo così, del censimento dell'architettura del secondo novecento di cui è anche cambiato il nome. Allora, questo progetto che è l'Atlante dell'architettura contemporanea nasce nel 2019 e diciamo per dare un, per rendere più fruibili e più anche accattivanti per un pubblico più ampio, mi collego alle parole appunto che ha detto il direttore Cuccione e la collega d'architetto Carofalo, è il più interessante per un pubblico più vasto. Viene anche qui, in questo caso, emanato un avviso pubblico per raccogliere, per il progetto di un'idea, di una piattaforma che contenesse al suo interno delle architetture raccontate attraverso le immagini, attraverso le immagini fotografiche appunto come aveva, come ha citato il direttore Cuccione, un progetto che affonda le sue radici appunto all'edizione del 2004 della Biennale, dove era già stata lanciata questa idea di raccontare le architetture attraverso le fotografie. Questo bando è stato vinto dal Dipartimento dell'Architettura e Progetto della Sapienza, che ha lavorato in collaborazione con Docomo Italia, che ha confezionato diciamo questo interessantissima piattaforma che appunto ha preso questo nome, raccontata attraverso le architetture, sviluppata attraverso immagini autoriali raccolte in delle schede che vanno a costituire sette itinerari e sette storie che è dieci storie che invece attingono all'interno di materiali d'archivio. Questo progetto ha avuto immediatamente un successo notevole perché queste immagini hanno cominciato a navigare su diversi canali, ci sono state richieste da numerosissime riviste di settore, da numerosi autori per illustrare le monografie. Allora la direzione generale ha pensato di dare una seconda, di realizzare una seconda edizione di questo progetto che rispettando appunto la struttura costruita che ha visto appunto un'ulteriore collaborazione interistituzionale, così come nella prima edizione. Questa volta è stata attivata una collaborazione con la triennale di Milano e con il Museo di Fotografia Contemporanea. È stato fatto un altro bando pubblico per selezionare dieci giovani fotografi under 40. Appunto ho dimenticato di dire, in questa edizione, nella prima edizione, le architetture sono state fotografate da sette fotografi professionisti, di cui uno presente è Marco Introini, che è autore di moltissime foto sia dell'Atalanta che del Censimento, che poi ci sarà autore di un intervento, che è autore anche della foto che rappresenta queste giornate. La seconda edizione invece ha visto la presenza di dieci fotografi molto giovani che hanno iniziato, che sono andati a documentare altre duecentosessantacinque architetture. Quindi hanno in piena pandemia iniziato i loro dieci viaggi, che poi sono diventati una mostra che appunto è stata curata appunto dalla direzione generale, che ha avuto già due sedi. Io mi fermerei qui, così non tanto sulla navigazione poi ognuno può andare singolarmente, non ruberei ulteriore tempo alla presentazione. Grazie molte. Quindi passiamo la parola da programma alla nuova piattaforma digitale per il censimento e quindi ci riferisce Renato Piccirillo di Hermes Multimedia. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Anche io cercherò di essere molto breve, soprattutto per non tediarvi con tecnicismi. Fondamentalmente diciamo che le due piattaforme che ho avuto l'occasione e il piacere di curare, pur lavorando sugli stessi contenuti chiaramente tematici, si differenzino fortemente perché appunto una è orientata alla comunicazione, la disanimazione e alla diffusione dei valori della cultura dell'architettura potente contemporanea. L'altra è invece appunto destinata a veicolare il lavoro del censimento compiuto in questo lungo arco temporale. Il lavoro che è stato svolto in particolare sulla piattaforma del censimento è stato quello di effettuare un redesign sia dell'architettura informativa sia della interfaccia, quindi della UI della piattaforma. Procedendo naturalmente prima una migrazione dei dati che erano già stati nel tempo costruiti e ospitati all'interno della piattaforma attuale e ancora online. I criteri, diciamo gli obiettivi e i criteri adottati in questo redesign erano quelli di migliorare diciamo l'accessibilità generale del sistema, migliorare le performance perché trattandosi di una base dati abbastanza ricca e soprattutto articolata con tutta una serie di campi, con una database piuttosto strutturata, una database relazionale, presentava delle criticità di accesso al dato e che chiunque ha lavorato insomma su questo progetto ha riscontrato nel tempo. E quindi l'obiettivo primario era quello di fare una piattaforma agevole, veloce, facilmente consultabile e che appunto rispetto all'Atlante si poneva l'obiettivo di essere uno strumento di lavoro perché al di là della consultazione chiaramente uno degli scopi fondamentali della piattaforma è anche quello di continuare a gestirne l'aggiornamento, il popolamento e l'arricchimento nel tempo. Quindi l'interfaccia utente è stata rivista completamente, anche io non farò una navigazione approfondita per non rubare tempo, ma la cosa che naturalmente potete fare tutti in autonomia. Naturalmente essendo uno strumento di ricerca la parte fondamentale è quella destinata appunto alla ricerca delle opere con un motore di ricerca con dei campi chiave, naturalmente una mappatura sul territorio, quindi un approccio cartografico e geografico e il risultato diciamo delle ricerche è esposto come elenco di opere dai quali poi si accede alle singole schede. Singole schede che appunto accedendo al back-end possono essere aggiornate, naturalmente quello che vedete sono le immagini a corredo delle schede che sono appunto di tipo documentale, di tipo archivistico e non di particolare qualità, però diciamo consentono appunto di avere una documentazione esaustiva. Mi fermerei qua per non rubare altro tempo. Grazie, velocissimo, ma questo anche qui c'è un tema, andatevelo a guardare sul sito e fate la vostra ricerca, bellissimo, ci ha messo addosso una bella curiosità per provare. Quindi grazie, grazie, grazie di nuovo anche per questa enorme sintesi. Lascerei la parola appunto a Giulia Menzietti, Università degli Studi di Camerino, che parla a nome di un nutrito gruppo di lavoro, quindi bisogna citarli, Laura Battaglia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Alberto Coppo dell'Università Roma 3, Martina Massaro Università degli Studi di Padova, Davide Mezzino Università Telematica Internazionale Uni Nettuno e Stefano Setti dell'Università Cattolica di Roma. Il loro argomento appunto è la normalizzazione e l'aggiornamento del censimento. Grazie. Grazie mille. E buongiorno a tutti, come anticipato appunto sono una dei ricercatori che ha affrontato questo lavoro di possiamo dire appunto di aggiornamento di questo strumento del del censimento del quale stamattina si è ampiamente parlato, uno strumento eroico nel in questo suo tentativo riuscito di raccontare la consistenza di un patrimonio così difficile anche da da comprendere e da interpretare, sia per addetti ai lavori, sia però come dire per un un obiettivo anche di conoscenza, di divulgazione di questo tipo di di patrimonio. Possiamo andare avanti con la slide successiva? Ce l'ho io? Posso fare? Questa diciamo è una mappa molto così basica che però racconta la modalità con la quale abbiamo affrontato questo lavoro. Siamo in sé ricercatori quindi ciascuno ha avuto il proprio lotto con un numero di schede omogenee, una media di 700 architetture da da revisionare, da normalizzare nelle modalità di restituzione di dati e da aggiornare. Come vedete il numero è omogeneo di schede ma sparso in porzioni territoriali nazionali molto ampie, questo ci ha consentito di come dire gestire specificità di patrimoni regionali ma con uno sguardo a sistema capace quindi di come dire di gestire la complessità e la diversità di contesti molto lontani e differenti tra loro. Sulla metodologia vado velocissima, in parte sono state anche già mostrate alcune voci, questa era la piattaforma digitale, questa è la schermata che abbiamo affrontato per ciascuna architettura, in alto vedete le voci sulle quali siamo andati ad intervenire, questa era la prima voce, quella riferita alla scheda che aveva come dire una dimensione informativa sulla quale siamo andati ad intervenire sostanzialmente in campo appunto di aggiornamento redazionale. Nel campo degli autori si è già parlato, abbiamo anche qui inserito le varie professionalità con i vari ruoli e vado velocissimo, scusate, il campo della bibliografia è stato un campo molto complesso sia perché richiedeva appunto un lavoro di aggiornamento bibliografico e un lavoro di aggiornamento redazionale rispetto ai nuovi criteri stabiliti. Un campo complesso, pensate a gestire bibliografie di architetture note, iper pubblicate, non so, Venezia, Milano, Roma, pensate alla difficoltà invece del reperimento bibliografico in regioni come il Molise dove ancora la letteratura un po' fatica ad entrare rispetto insomma alla diversità con altri contesti. Il campo della sitografia è un campo che abbiamo quasi sempre affrontato ex novo che abbiamo ritenuto anche dinamico nel restituire proprio dei racconti anche sul presente di queste opere. Fonti archivistiche al contrario, ci siamo misurati invece su contesti, su archivi storici, anche questo un campo quasi sempre inesplorato. Discorso degli allegati, abbiamo lavorato soprattutto nell'inserimento o nella completamento delle bibliografie, non abbiamo inserito nuove immagini per una questione di crediti. Il campo criteri se ne è parlato, ci siamo mossi in una comfort zone andando ad intervenire esclusivamente in quelli che erano criteri oggettivi, quindi laddove le bibliografie venivano implementate. Abbiamo inserito noi criteri primo e secondo, quelli relativi alla fortuna bibliografica, non ci siamo come dire sbilanciati nel mettere le mani su precedenti valutazioni critiche. Velocissimamente le questioni che in questi mesi di lavoro ci siamo trovati a condividere. La prima riguarda le fonti, ovvero gli strumenti con i quali noi e come dire i fruitori di questo censimento possono conoscere le architetture. Chiaramente il discorso bibliografico è lo strumento più accreditato, con un peso scientifico notevole, ma a fianco a questo strumento che tra l'altro ci ha anche insegnato a capire anche le tendenze delle varie scuole, cioè come le attenzioni delle ricerche siano state spesso catalizzate su contesti architetture, autori, a volte anche tralasciando architetture o architetti meno pubblicati e a fianco a questo ci siamo molto appoggiati anche a questo tipo di strumenti, cioè riviste di enti, associazioni, ordine, quindi con un contenuto scientifico sicuramente ridotto, però che svolgono un ruolo molto interessante e utile proprio di ricognizione territoriale dell'architettura contemporanea. Altro strumento che abbiamo ritenuto utile è la sitografia, perché è capace di restituire informazioni sul presente, quindi non so, le associazioni come gestiscono alcune architetture, cosa si può fare in quelle architetture, oppure banalmente la cronaca locale che restituisce il dibattito su queste architetture, cioè la percezione anche collettiva, cosa i cittadini pensano, cosa vogliono fare di questo patrimonio che come ripeto è spesso anche sfuggente alla comprensione. Altra questione, vado velocissima, l'apparato iconografico. Spesso abbiamo notato che alcune schede avevano un apparato incapace anche qui di raccontare il presente di queste opere, magari erano foto di architetture subito dopo il cantiere appena inaugurate, quindi incapaci di restituire appieno la consistenza attuale. In questo senso lo strumento dell'Atlante diventa un collegamento utile o forse necessario nel raccontare oggi queste opere come sono. E l'ultimo punto, storia versus cronaca, appunto la necessità che abbiamo rinvenuto di utilizzare questo strumento di renderlo non solo uno strumento storico, cioè di superare quel limite che in alcuni casi raccontava alcune opere, raccontandocele sostanzialmente così, appunto dopo l'inaugurazione e un po', come dire, glissando sulla consistenza attuale di queste opere, su quello che è stato il loro processo, non solo la loro storicizzazione. E dunque chiudono con questa riflessione rispetto alla necessità che un po' abbiamo rilevato di rirrenderlo uno strumento storico già perfettamente funzionante, ma di aggiornarlo anche in termini contemporanei, raccontando il dibattito, la percezione collettiva, anche magari in futuro non escludendo la possibilità di dare una finestra sul presente, su come è oggi la condizione dell'opera, su come viene recepita e su come in qualche modo è riuscita a reagire a questo lasso di tempo che ha attraversato. Grazie.